Pescatori fermi dallo scorso 22 maggio sul piede di guerra. La richiesta è precisa. Il governo deve ridurre il prezzo del carburante. Non ci sono più entrate. Stamani tutti a Roma. Non andare in mare, non lavorare è l'unica possibilità che i pescatori hanno per sensibilizzare le istituzioni, soprattutto il governo. Già a marzo, dopo un primo blocco della pesca, era stato lanciato un appello. Oggi, come già accaduto in altre occasioni e in altri palazzi, come quelli della prefettura di Pescara e della regione Abruzzo, la marineria avanzerà e rilancerà una serie di richieste. Il prezzo del gasolio è arrivato a 1,20 euro, davvero improponibile per chi deve affrontare anche altre spese per mantenere le imprese. Un prezzo ha ribadito la marineria talmente alto che per assurdo è preferibile non andare in mare, mettendo in crisi però tutta la filiera, dai grossisti sino ai commercianti al dettaglio, passando per i ristoratori rimasti senza pesce fresco locale. Queste le prime immagini della manifestazione in corso di svolgimento a Roma stamani, appunto incontro col Ministero dell'Economia nel pomeriggio col Ministero della Pesca. Il nervosismo è palpabile, la categoria è stata costretta a fermarsi, è diventata l'unica speranza ma nel pomeriggio da Roma dovrebbero arrivare novità.